L'asla di Pescara in campo per nuovi sistemi informativi e soprattutto per difendersi da minacce informatiche. Il problema di digitalizzare un po' tutti i processi e le procedure amministrative ma anche le piattaforme tecnologiche è fondamentale per garantire un controllo di gestione efficace ed efficiente e anche per poter sviluppare quelle che oggi saranno fra poco individuati con i nuovi traguardi della medicina del futuro, cioè la telemedicina. Noi abbiamo già irrobustito fortemente il nostro centro di elaborazione dati che sarà arricchito nel progetto amministrativo che abbiamo messo in cantiere e in questo progetto ci sarà quindi il nuovo CED e tutta una serie di attività che sono finalizzate alla sicurezza informatica. Dottor Sorgonasi parla dell'evoluzione dei sistemi informativi ospedalieri contro le minacce informatiche. Anche la Polizia di Stato, la Polizia Postale in questo caso, collabora a questo progetto dell'asla di Pescara? Assolutamente sì perché la Polizia di Stato attraverso la specialità della Polizia Postale fornisce il proprio ausilio e il proprio supporto per quanto riguarda tutto quello che ha a che vedere con la sicurezza informatica a maggior ragione in un settore così delicato e che tratta dati così sensibili come quello del settore ospedaliero. Dottor Damario, cambiando un attimo argomento, in queste settimane si parla tanto di Aslo Unica, Pescara Chieti, a che punto siamo e se ci saranno novità nel breve termine? Questo è un progetto sul quale sta lavorando la Regione e quindi è di natura esclusivamente politica. Questa è programmazione e noi come Direttore Generale ci occupiamo di gestione. Quindi ci vengono dati gli obiettivi e noi poi in quell'ambito dobbiamo gestire con autonomia. Grazie a tutti.